È un'esperienza che ti può portare a un ascolto molto profondo. Dal 19 al 23 di giugno di quest'anno si terrà la quinta edizione del ritiro intensivo di gong a altre discipline olistiche organizzato da Florence Gongs e Home Resonance, ente formativo per operatore olistico. E culminerà in un evento straordinario, una 24 ore non stop, con oltre 50 gong planetari e circa 20 persone che si alterneranno a suonare. Durante i cinque giorni ci saranno tante altre esperienze proposte, tra cui meditazioni, tecniche di respiro, yoga della risata, ata yoga, in yoga, drum circle, riflessologia plantare e molto altro. Saranno cinque giorni per uscire anche dal caos della vita quotidiana, quindi prendersi un tempo per ascoltarsi, osservarsi, riflettere sui propri vissuti e beneficiando nel frattempo di tutte le esperienze che verranno proposte. Chiunque fosse interessato può mandare un'email a omresonance-gmail.com o florencegonx-gmail.com o scrivere anche un messaggio, un whatsapp al 331-4659-322 o al 328-233-2502.